E' stato sottoscritto ieri mattina a Vallo della Lucania l'accordo di programma tra l'ente Parco Nazionale del Cilento e la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, finalizzato alla lotta all'abusivismo, alla presenza del Procuratore Generale Antonio Ricci e del Presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino. Toleranza zero per chi non rispetta il territorio, hanno sottolineato durante la conferenza stampa. La nostra priorità, come dicevo, è quella della lotta all'abusivismo edilizio, insomma, areati ambientali in assoluto, in una zona che è un'area protetta. Ricorderete che il Parco del Cilento nasce nel 91 sulla base e quasi una conseguenza diretta della legge del 91, la 394, che in qualche modo ha previsto la creazione di aree protette, e c'è di aree che abbiano ovviamente una particolare tutela e salvaguardia. Il Cilento nasce proprio in quella data, il Parco del Cilento. Ora, il fatto che ci sia un accordo di questo genere, ripeto, che è un accordo importante, perché insomma, come dire, unire le forze da parte di una Procuratore della Repubblica e da parte di un parco che è preposto appunto al controllo e alla salvaguardia di un territorio così prezioso come quello del Cilento, io la trovo un grande punto d'arrivo. Ovviamente, punto d'arrivo quanto alla stesura di un programma, di un accordo e alla sottoscrizione di accordo, ma è un punto di partenza per poi in qualche modo provvedere a mettere in campo e rendere efficace questo accordo. È una giornata importante, perché oggi sanciamo un principio, quello che c'è una tolleranza zero nei confronti di chi pensa di distruggere il nostro patrimonio, è più importante che è il patrimonio paesaggistico, è il patrimonio che ci consente oggi di essere aria protette, è il patrimonio che ci consente di avere tanti riconoscimenti unesco, è il patrimonio che ci consente di essere orgogliosi della nostra terra. Purtroppo parliamo di un tema dove ancora c'è tanta, troppa burocrazia e tanti procedimenti vengono rallentati proprio per questa burocrazia infinita. Allora c'è bisogno sia da una parte di alcuni accorgimenti normativi, ma dall'altra parte c'è bisogno anche di azioni concrete sul territorio. Noi come Parco abbiamo fatto ben 118 ordinanze e nei prossimi giorni lavoreremo ancora più intensamente. Purtroppo abbiamo visto che le maggiori speculazioni di Lizzie si verificano sulla fascia costiera e lì daremo da subito i primi segnali. Noi dobbiamo oggi dare il segnale appunto nei confronti di quelli che pensano di speculare, di fare profitti a danno del nostro territorio. Se oggi noi non mettiamo in campo questa azione ipotechiamo il futuro per i nostri figli. Invece noi dobbiamo restituire, perché andando a fare gli abbattimenti, andando a creare quel ripristino della legalità sui nostri territori, noi restituiamo al Parco, restituiamo alle famiglie che vivono qui quella bellezza, restituiamo quel valore. Ecco, ciò che noi ci siamo previsti nel nostro protocollo che abbiamo oggi sottoscritto.